Fiamme Oro Moena Marina Piredda adesso a scendere sul ghiaccio dell'Ice Lab Sessanta e sedici E quanto si porta in dote La ragazza che gareggia per le fiamme Oro Moena Classe duemila e due giovanissima Campionessa italiana junior in carica Si allena la pista di Cavalese Vediamo E apre con un doppio Axel In combinazione con un doppio Sarkov Bene il triplo Luz Bene il triplo Bene il triplo Luz 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 Va bene il doppio axel in combinazione con il triplo toluf, brava Marina! E bene! Molto bella anche la trottola combinata! Un piccolo problemino sulla sequenza di passi? Un piccolo problemino sulla sequenza di passi? Una bella prova per Marina, soprattutto arriva da un infortunio a un piede che la costretta a star ferma per un po' di tempo, quindi una bella risposta per l'atleta delle fiamme oro. Una bella prova per Marina Pirelda. Anche lei mostra con la mano, avrebbe potuto fare qualcosina di meglio, qualcosina in più. E adesso si accomoda anche lei nella poltrona del Kiss & Cry. 171-38 il punteggio di Lara Gutmann. Qua ci si gioca il podio. Rivediamo un doppio axel in combinazione solo con un doppio salco. Bene il triplo luce in combinazione con il doppio toluf. Un programma ben costruito. Trottole eseguite tutte molto bene. E vediamo il doppio axel in combinazione con il triplo toluf, ben eseguito. Ecco qua, la tuta delle fiamme oro di Moena. L'attesa della valutazione. Ripetiamo, ricordiamo, 171-38 il punteggio di Lara Naki Gutmann, con lei che guida al momento. Ben più distante invece Lucrezia Gennaro che occupa la seconda posizione al momento davanti a Elisabetta Leccardi. Questo è il podio provvisorio. E poi mancheranno Beccari e Tornaghi a chiudere la categoria femminile. Continua la chiacchierata valutativa. Vediamo che stanno riguardando. E cresce anche l'attesa. Anche perché qua, ricordiamo, è il momento di andare a vedere come sarà il podio di questi campionati italiani. Ecco. Punteggio per Marina Piretta. L'atleta ha ottenuto un punteggio di segmento di 112.73. E allora va in testa, va al comando, di pochissimo. Vediamo la soddisfazione di Marina. Un punto e mezzo, grossomodo, quanto ha dato alla Gutmann.